Chi vuole mangiare oggi? Dai, vieni! Ci dà del cibo! Per me è una regola non prendere cibo dagli psicopatici. Ma ho fame! Frankie, seduto! In piedi sulle zompe! Su una zompa sola! Che sei? Un cane da circo? Potrei esserlo! Hai un debole per i cani da circo! Fai il morto! Ah! Mi hai colpito! Ah! Affondato! Questo è macabro! Bravo, Frankie! La vita è facile quando fai esattamente quello che ti dico! Adesso è il tuo turno! Fa la giravolta! Ho detto che devi fare la giravolta! Ma che fai? Fa la giravolta! Ma guardami! Ti sembro una ballerina! Lo sai, non promette bene! Andiamo a comando! Andiamo a comando!